Ciao a tutti, eccoci in questo nuovo video su Clash Royale Oggi siamo qua in questo nuovo video su Clash Royale Per cercare di conquistare Carone Stavo dicendo Carote Corone per il baule del flano Intanto apriamo questi bauli Qui non troviamo niente E siamo a 5 corone in questo clan Almeno 15 corone, quindi cerchiamo di farne a 3-10 Fra poco scaricarlo 11 E al 3-10 significa un baule della corona E ci proviamo Mettiamo questo qui naturalmente Andiamo così Oh mio dio, orta di scheletri Stregone elettrico E domatore Buono Dai, abbiamo fatto un bel po' di danno Più di mille di danno Ok, oh volevi Lui pensava naturalmente che gli mettevo l'orda di scheletri Spera, mannaggia Ok, un colpo di coso? Stregone, no Stregone di ghiaccio Andiamo di domatore No, brutta Ok Ok, va bene così Vai Non mette niente Quindi io vado di scheletri Stregone elettrico A questo punto Sì, aspettiamo Ecco, lui mette quello Vai, andiamo di questo Bravi Ok, buona Però no basta Lui mi metterà in continuazione Torno inferno Facciamo così Allora Dai, se la metti così Ti faccio vedere Bravo Si colpito la torre Che bove No No, ha colpito Vai, vai Non mettere la torre inferno E dai Mamma mia Che camper E vai E pigliati questi E pigliateli E pigliateli Eh Vai Vai Vacci Vacci E andate Mamma mia Che ci vuole Dovete andare a torre Grandi Grandi Che partita Che cosa ho vinto Che cosa ho vinto Che cosa ho vinto È impossibile Che partita Vai Continuiamo Che partita Epica Lui che credeva Già di aver vinto Ok Aia Vabbè Un colpo Va benissimo Scherri colpiranno Vero Ok Buono colpisci Buono Brava Due Tre Tre colpi L'hanno benissimo Ok Ci ha dato un colpo Però Va bene Ok Buono Buono Due colpi Alla torre E lui Non so ora Cosa potrebbe avere Contro i barbari Scelte Aspettiamo Che arriva Anche la scarica E Lui mette il tronco Poi quello Mamma mia Grandissimi Oh Riesce a dare L'altro colpo Lui aspettate Ah quello Ci ha d'attacco Vero E la Cugno Basta Anche se Il mini pecc È facile Da fermare Lui può essere Anzi Che non è ancora Riuscito A mettere Tutte le sue Truppe Infatti Quello A livello 13 Madonna Oh però Intanto Guardate L'altra torre Quanto È scesa Quindi Buonissimo No però Non colpire Quello Stupido Cosa Eh no Eh no Non si Fa Andiamo Lui Che decide Di fare Decide Di attaccare Di qua Buono Buono Che ho messo Gli scheletri Ok dai che abbiamo Unito Pure Questa Direi E lui Non c'è riuscito A fare Nemmeno Una torre Ce l'ha Ce l'ha fatta Però Chi se ne importa E continuiamo Quindi A vincere Due corone Per il clan E siamo E siamo a Quattromila Sessantasei Coppe Secondi Nel clan Con Otto Corone Altre sette Ce ne servono Quindi Almeno Quest'altra Proviamola A vincere Allora Gigante No Brutta Ok Due colpi Vanno bene Non è niente male Vediamo se lui mette qualcosa dietro Si Ha messo quelli Poi ha messo anche quelli Quindi dai Facciamo così No Brutta Ecco Buonissimo Così E lui Mette un altro Gigante E io Li metto un domatore Dall'altra parte E c'è ancora Le risierne Guardate Quel barbaro Scelto Che è riuscito Ad andare A colpire No Allora Le guardie Non le mettiamo No dai Mettiamo Solo le guardie Random Lui Usa il tronco No Non l'ha usato Dai un po' Di danno Da quella guardia Buono Porco bug Porco bug Madonna E danno Brutto Brutta 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 Ci ha tolto Mille Solo con Quei Con un barbaro Scelto Justo per far Capire Quanto So poco Forti Questi Barbari Scelti Grande Quel Barbaro Cioè Guardate La che ha fatto Che ha fatto E vai Fammi la torre Vai Dai fammi questa torre Forza Fammela Ci voleva tanto Vai E vai Forza Picchiate Picchiate duro Vai Metà sguerra Ci è mancato poco Che dava Un altro colpo Vai No no Questa no Questa no Non ho iniziato a colpire No 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 Brutta 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 Questa Questa è stata brutta Bruttissima Te lo potevi dare Un altro colpo Cioè Oddio 2.42 Un'altra vittoria Per noi Bolle d'argento E due corone Per il clan Doniamo E quindi Siamo a 4.095 Coppe Buonissimo E quindi Se vi è piaciuto Questo nuovissimo video Di Clash Rogial In cui abbiamo Guaragnato Corone Per il clan 5 Quindi Ce ne mancano Altre 5 Se vi è piaciuto Questo video Iscrivetevi Lasciate un like Ci vediamo Ciao a tutti